La Toscana presenta i suoi gioielli agli operatori turistici italiani e internazionali. Lo fa a Luc fino a mercoledì con il By Tuscany, l'evento laboratorio, che da 13 anni Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica organizzano per far dialogare offerte e domanda attraverso incontri diretti tra aziende. L'edizione 2021, di nuovo in presenza, si svolge negli spazi del Real Collegio, di Villa Bottini e di Palazzo Fanner, oltre che dell'Orto Botanico, il vero salotto della città con la presenza partecipata di 94 responsabili acquisti di aziende italiane e 113 buyers internazionali dei più importanti tour operator provenienti dai maggiori paesi europei ed extraeuropei. Si racconteranno 93 aziende toscana presentando pacchetti e proposte. L'offerta prevede anche 10 tour informativi dedicate alle città d'arte e all'enogastronomia locale. Quest'anno infatti la manifestazione racconta la Toscana anche attraverso il gusto, con assaggi di prodotti e il progetto regionale Vetrina Toscana.